La TSE a riguardo è stata chiarissima, l'acqua del Po non è balneabile, come del resto quella di tutti gli altri bacini idrici, non solo della provincia di Cremona, ma anche di quella di Mantua. Un divieto che nasce sulla base delle analisi dei laboratori e delle autorità sanitarie. Che la qualità delle nostre acque sia scarsa è un dato di fatto conclamato ormai da anni, per caratteristiche chimico-fisiche e per caratteristiche microbiologiche, non solo, anche per la presenza di eventuali fonti di pericolo per i bagnanti, come i roditori, per esempio, aree di flusso turbolento dell'acqua, presenza di scarichi fognari o industriali, rive scoscese. In questo periodo la TSE sta diffondendo tra i comuni e sul proprio sito internet i modelli di segnaletica che devono essere apposti per indicare il divieto di balneazione, divieto che deve essere divulgato con tempestività durante la stagione balneare, ossia il periodo compreso fra il 1 maggio e il 30 settembre. Negli ultimi anni la qualità dell'acqua sul Cremonese sembrava migliorata grazie all'aumento dei tempuratori, ma Arpa Lombardia si è recentemente espressa sullo stato delle acque superficiali, dei bacini dell'asta del fiume Po, e lo stato chimico risulta invece essere nettamente peggiorato. Se nel precedente periodo era definito buono, ora è stato declassato a non buono.